Appalti pubblici, clan e lavoro amministrativo. Gli atti elaborati dall'amministrazione comunale di Scafati sono da ieri mattina sotto la lente di ingrandimento della commissione d'accesso voluta dal prefetto di Salerno e validata dal ministro degli interni. Tutto è nato dalle indagini dell'antimafia che avrebbero visto infiltrazioni camorristiche nella gestione di Palazzo Maggio. Mentre le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del sindaco, Pasquale Aliberti si dice convinto che il lavoro degli investigatori porterà ad un ulteriore momento di chiarezza. A muovere tutto era stato il 17 settembre scorso il PM antimafia Vincenzo Montemurro che aveva emesso avvisi di garanzia per il sindaco, la moglie, la consigliere regionale Monica Paolino, destinatari degli avvisi anche la segretaria generale del comune di Saia, il fratello di Aliberti Nello e lo staffista Giovanni Cozzolino. Per tutti l'ipotesi accusatoria che vanno dall'associazione di tipo mafioso allo scambio elettorale politico mafioso alla corruzione con concussione e abuso d'ufficio. Nel birino il sistema degli appalti pubblici tra cui quello del polo scolastico e la riqualificazione dell'area ex copmes ma non solo nel birino degli inquirenti anche i lavori di riqualificazione stradale appalti e determine che passeranno ora sotto la lente di ingrandimento della commissione d'accesso.